Joseph Mone Channel presenta. Respira. Respira e scartare l'idea di nascita e morte. Respira e vedrai che l'impermanenza è vita. Respira per la tua gioia di essere stabile e sereno. Respira, così il tuo dolore scorre. Respira per rinnovare tutte le cellule del sangue. Respira per rinnovare le profondità della coscienza. Respira e vivi nel qui e ora. Respira e tutto ciò che tocchi sarà nuovo. e reale.